Mollerino Sport Channel, sono Ciccio e oggi vi parlerò della gara che si è appena conclusa in Belgio, la Gendwebelgem, una corsa, una classica, tra le più importanti che si svolgono in questo periodo, che si svolge su un percorso di 251 km e prevede vari muri, tra i quali alcuni addirittura in pavè, come quelli del Fiandre. E' stata una gara mozzafiato, nel vero senso della parola, perché sono susseguiti ventagli, scatti, controscatti, appunto i vari muri, gruppi che dovevano rincorrere altri gruppi, tentativi di sfuggire alla volata. E' stata una gara veramente eccezionale. Nei primi 100 km si è creato un ventaglio, tipo si sono avvandaggiati 18 uomini, tra i quali Peter Sagan, Trentin, Wuttman Aert, e nel gruppo dietro erano rimasti uomini di una squadra importantissima, probabilmente la squadra top per quanto riguarda le classiche, la Dei Unique, e quindi si sono dovuti armare per rientrare su questo gruppo. Appena sono riusciti a rientrare, ci sono appunto già altri quattro uomini, tra i quali, appunto, sempre Sagan e Trentin, e un uomo della Trek, Jasper Steven, se non ricordo, e un altro che non ricordo ben bene in questo momento. Quando mancavano circa 60 km al traguardo, non ricordo bene, sono stati ripresi, dopo, quando mancavano appunto 20 km, quindi sono fatti 40 km da soli, collaborando, e hanno speso tanto, come è giusto che sia, dietro appunto la Dei Unique con Zenex Tibar, Lamp Aert, e alcune volte anche Gilbert, giravano, e quindi sono riusciti a riprenderlo. Il loro divario massimo è stato, se non ricordo male, un minuto e dieci. A un certo punto si pensava addirittura che potessero farcela, perché c'è stato tipo per un 3-4 km. La Dei Unique si è rialzata per cercare di, appunto, chiedere alle altre squadre di collaborare, ma non è stato, non hanno avuto questo successo, questa pensata. Perché nel gruppo vi erano la lotta nel jumbo, priva di Vanai e di Kroneweg, che non aveva intenzione di tirare, che non aveva un uomo veloce, e poi vi erano squadre che avevano uno o due corridori, e quindi non avevano intenzione di collaborare. Dopo tanti chilometri, 40 circa, l'hanno ripresi, e poi è iniziato un attacco e un contrattacco continuo. Prima ci hanno provato Langeveld, poi provava Van der Poel, l'uomo della Corendon, il campione olandese, poi provava Gilbert, veramente bellissimo. A un certo punto si... Madonna... A un certo punto riescono a sfuggire quattro uomini, Langeveld, Jack Bauer, Steven e un altro, non ricordo perché non era molto importante, come uomo, nel senso, non era un uomo di spicco. Tra di questi avevamo Langeveld, il Marco, al fantascivismo, speravamo in una vittoria, però all'ultimo chilometro li hanno ripresi. Va bene, abbiamo sperato, c'è Viviani dietro, insieme a Crank Andersen, e a... un altro, che è Ugelele, possiamo fare qualche punto. E anche io speravo, anche nella vittoria d'Italia, uno anche di Trentin, andava bene, va nel senso, parte della volata, tutto Trentini messo bene, alla ruota di Christov, a posto, Viviani, ricordiamo che l'anno scorso è nato secondo, battuto da Sagan, che quest'anno era stanco, perché si è fatto 40 km in fuga, parte della volata è Moric, se non sbaglio, Moric, sì, mi sembra Moric, frena Viviani nella volata, quindi non può partecipare alla volata. Io guardavo, dove è Viviani, dove è Viviani, e non c'era Viviani. parte la volata, e Christov proprio spara, e vince tipo, con tre briclette davanti, di vantaggio sugli altri. Al secondo posto, arriva, Deckenkolb, John Deckenkolb, che addirittura non sapevo manco, che fosse nel gruppo di testa, neanche i telegonisti, l'avevano nominato. Al terzo posto, Oliver Nassen, che è in una condizione stratosferica, perché di solito non è un uomo, che riesce a esplosivo, nelle volate, è riuscito a fare tipo, secondo alla Sanremo, e adesso, terzo alla, come si dice, terzo alla, alla Ghent, scusate. Viviani, non so quanto è arrivato, ma sicuramente non è in top 10, non figura in top 10, e il migliore italiani, Matteo Trentino, ottavo, quindi proprio, zero punti al fantascivilismo, ok, va bene, va bene. Ora domenica c'è, la grandissima, la seconda classica monumento, il Giro delle Fiandre, settimana ci sono altre gare, corse molto importanti, come l'altra verso le Fiandre, che si svolgerà mercoledì, e, mercoledì sempre inizierà il Giro di Sicilia, dopo 42 anni, ritorna il Giro di Sicilia, con la prima tappa a Catania e Milazzo. Vediamo, va bene. Like, commento, iscrivetevi, e condividete. Ciao, Ciao. 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 Grazie.